voglio iniziare il video dicendo una cosa forte così proprio nei primi istanti di registrato ogni tanto penso una cosa che un po' mi provoca vergogna e cioè spero che Allegri venga esonerato dalla Juventus perché davvero non se ne può più di vivere un momento, di vivere un tifo, di vivere quello che è la Juventus in questo modo e cioè avere sempre gli occhi e i riflettori puntati addosso non su quello che si ottiene ma su quello che si poteva ottenere intendiamoci a nessuno piace vincere soffrendo 1-0 in casa con lo Spezia, a nessuno però quando mi dicono che essere contenti della vittoria della Juventus è guardare il dito non la luna allora io dico la stessa cosa ma al contrario e cioè basarsi sempre solo sulle cose che si devono migliorare invece che godersi il momento è guardare il dito non la luna e la luna sono i risultati la Juventus da qualche partita a questa parte sta ottenendo dei grandi risultati soffrendo alla grande, sottoscrivo, al 100% sono il primo che vorrebbe una Juventus diversa, che vorrebbe una Juventus più padrona del campo una Juventus dominante in tutte le partite di campionato, in tutte le partite di Coppa Italia in tutte le partite di Champions, in tutte le partite sono il primo a volerlo ma basta guardare un campionato il nostro campionato di Serie A e anche le squadre che notoriamente segnano tanto propongono tanto, creano tanto hanno dei momenti di riflessione e va accettato a maggior ragione questi momenti di riflessione vanno accettati in squadre come la Juve come in questa stagione in cui il calcio spettacolo e il voler proporre tanto non c'è quasi mai quindi se tante di quelle squadre che creano tanto in alcuni momenti della stagione hanno la possibilità di dover fermare doversi fermare e magari non fare gole, magari non fare punti una squadra come la Juve che non si pone in partenza come la squadra che deve far divertire la platea a maggior ragione se nel momento di difficoltà inizia a raccogliere dei punti, delle vittorie pesanti dei risultati pesanti io guardo il dito va bene guarderò quello che viene etichettato come video come dito guarderò il dito non è un problema guarderò il dito e la stessa cosa di Allegri ve la posso riproporre su Dybala perché sinceramente sono stanco di vedere questa volontà di dividersi come se fosse un partito politico sei dalla parte di Dybala o sei contro Dybala sei dalla parte di Allegri o sei contro Allegri stessa cosa sta iniziando ad essere anche per Arthur la stessa cosa banalmente è stata per Sarri è stata per Pirlo lo è sempre e quindi la risposta che mi do è inutile sperare che se ne vada Allegri che se ne vada Dybala che se ne vada Sarri che se ne vada Pirlo perché di principio poi ci sarà sempre la volontà di creare una nuova divisione un nuovo polo un nuovo partito quando è che mi sono girate veramente le scatole? quando post Atalanta Juventus mi sono ritrovato pieno di commenti del tipo con Allegri non giochiamo mai a calcio non c'è mai un'idea di gioco non sappiamo cosa fare non ci si diverte in una delle partite migliori della gestione Massimiliano Allegri di quest'anno e quindi e quindi sono contro il fatto di voler sempre sottolineare quelle cose anche quando effettivamente quelle cose non vanno sottolineate e lì per dire io sono stato il primo a dire ok la prestazione però è mancato il risultato e non ero felice del pareggio per niente di ieri sera sono molto contento della vittoria e come dicevo nel video post partita 1, 2, 3 fino al 10 le prime 10 cose più importanti di ieri era il risultato mi sono ritrovato alcuni commenti del tipo vincere per cosa qual è l'obiettivo di vincere queste partite perché io ho detto era la cosa più importante vincere e l'abbiamo fatto e le persone mi chiedono qual è il motivo per cui vincere per raggiungere la Champions per riconfermare Allegri e quindi vedere cose brutte qual è l'obiettivo sì l'obiettivo è questo l'obiettivo è vincere per consolidare il quarto posto vincere per rimanere lì nelle prime 4 perché io ho la volontà l'anno prossimo di giocare la Champions la voglio giocare assolutamente voglio sognare di vincerla perché qualcuno continua a dirmi sì però così la Champions adesso non la vinciamo ragazzi siamo ad oggi la quarta forza del campionato italiano io penso che ad oggi sia un po' ottimistico pensare di vincere la Champions quindi non è che penso a se soffriamo quello spezia non vinciamo la Champions penso sia abbastanza evidente che non vinceremo la Champions quest'anno al di là di come si gioca al di là della prestazione che è migliorabile che deve migliorare assolutamente e io sono il primo a volerlo perché tanti mi dicono sì però ok ok va bene giochiamo così però continuando a giocare così non otterremo risultati io vi dico che sulla fila di vittorie di risultati consecutivi che abbiamo fatto tante partite sono state giocate così e quindi potrebbero benissimo continuare ad essere giocate così e ottenere risultati perché ad oggi la Ligri sta lavorando proprio su questa cosa sulla capacità della Juventus di raggiungere comunque il risultato e può non piacere è sacrosanto il fatto che non piaccia diventa diverso quando poi si sfocia all'interno di estremismi quando diventa una vera e propria vocazione idolatrare allegri perché ci sono quelli che mi dicono che bello le voglio vedere tutte così le partite perché sono più belle god di più queste partite qua e questo mi sembra un estremismo molto forte e dall'altra parte ci sono quelli che non si può vedere e quindi questa cosa deve essere cancellata ma il fatto che l'allenatore della Juventus prepari la partita come crede che sia meglio per ottenere il risultato il fatto che ci piaccia o che non ci piaccia rimane la nostra opinione personale lì si ferma e non è che l'allenatore della Juventus allora andrà a modificare il suo modo di allenare il suo modo di gestire la squadra in base a quelle che sono le nostre esigenze che rimangono opinioni rimangono sacrosante vanno assolutamente messe in evidenza ma si fermano lì poi se Allegri non dovesse ottenere i risultati sperati poi ognuno è libero di pensare quello che meglio crede in confronto al risultato che devo ottenere la Juve c'è chi mi dice che deve vincere lo scudetto c'è chi mi dice che deve arrivare i primi a quattro c'è chi mi dice che deve vincere tutto anche la Champions dopo lì sono valutazioni anche lì personali ognuno sarà libero di tirare le proprie conclusioni alla fine dell'anno in base a quelli che sono effettivamente i criteri però attenzione attenzione all'interno delle stagioni ci sono questi momenti qua in cui veramente fai una fatica che è incredibile e noi a maggior ragione stiamo facendo fatica perché non ci abbiamo nemmeno i ricambi se non dei ragazzi che in questo momento giocano in Serie C giocano in Serie C in questo momento i ragazzi dell'Under 23 sono giocatori che hanno giocato in Serie C in questo momento poi che possano entrare debbano entrare debbano giocare debbano avere la possibilità sono d'accordo ma capite che questo momento è difficile per gli stessi giocatori che sono abituati a giocare la Serie A è difficile per loro è complicato per loro come può essere facile per dei giocatori che la Serie A non l'ha mai giocata che la maglia della Juventus non l'hanno mai vestita come fa a essere facile per loro poiché tecnicamente Soulet possa essere più forte di Bernardeschi posso anche essere d'accordo con voi l'ho visto giocare talmente poco Soulet nelle amichevoli che ha fatto con la Juve quest'estate che difficilmente riuscirò a dare un giudizio oggettivo su Soulet però non basta questo cioè non è solo questo poiché possa essere inserito al posto di Bernardeschi anche io lo penso anche io lo credo ma non è che se ho questa convinzione e Allegri non la pensa come me allora lui è un coglione e io c'ho ragione perché non funziona così perché questa è la mia opinione contro l'opinione di un'altra persona anche io l'avrei messo dentro anche io avrei fatto tanti altri cambi anche io avrei inserito anche solo Miretti al posto di Locatelli che vedo un po' stanco ma non è che se poi non avviene allora la mia opinione diventa la verità assoluta contro cui fare un processo non funziona così l'unica cosa concreta che possiamo prendere al di là dell'opinione è il risultato poiché debba arrivare in un altro modo anche qui certo è sacrosanto pensarlo è sacrosanto volerlo desiderarlo ma dall'altra parte è sbagliatissimo non esaltarsi del risultato perché qualcuno mi ha detto Luca ma come fai a dire che ci sono dei tifosi della Juventus che in questo momento non vorrebbero vincere è ovvio che tutti vogliono vincere poi ci sta la critica il problema è proprio qui non è vero che tutti vogliono vincere mi sono trovato anche dei commenti di persone che mi scrivono io comunque spero di perdere piuttosto che vincere così il mondo è bello perché vario io lo sapete sono dell'idea che se il tifoso non è felice della vittoria al di là dopo di tutte le critiche che può giustamente avere da fare se non sei felice per la vittoria e preferisci perdere allora non sei etichettabile come tifoso della Juventus è l'unica cosa che mi permetto di dire qualcuno mi dice non puoi dare patente di tifo è vero avete ragione ma se una cosa la penso e la credo penso che sia sacrosanta anche dirla o devo tenermi dentro queste cose che credo e penso perché magari sono cose scomode perché già qualcuno pensa che io sia pagato dalla Juventus per dire certe cose sapete quanti commenti mi trovo con la gente che mi dice quanto ti pagano per dire queste cose allora guardate facciamo così tanto posso dirvi che non mi pagano che non ci crederete vi dico va bene mi pagano tantissimo non avete nemmeno un'idea di quanto mi pagano per dire queste cose più di Ronaldo a bilancio per la Juventus costo più di Cristiano Ronaldo quindi mi pagano veramente bene sono contento di essere pagato la Juventus perché anche qua tante persone mi dicono che non dico la verità ma la verità non è quella che vuoi sentirti dire quella è la tua verità l'unica verità è che la Juventus ha vinto ieri sera questa è l'unica verità l'unica cioè non è che scappiamo ci sono altre l'unica verità è che ieri sera la Juventus ha vinto le altre sono opinioni sono due cose differenti e non è che se ti dico la cosa che vuoi sentirti dire sono bravo e se ti dico la cosa che non vuoi sentirti dire sono un deficiente sono due cose differenti perché credo che uno davvero bravo sia quello che è in grado di dare a seconda del momento la lettura corretta al di là da essere influenzato da una cosa che piace o non piace perché per tanti sono allegriano per tanti sono allegriano perché non critico io credo di aver criticato e anche tanto allegri in questa stagione poi se non sono qui a chiedere la sua testa questo è un altro discorso e altri mi hanno dato dell'anti allegriano perché appunto ho criticato io credo che questa sia una cosa positiva perché significa che non ho un'idea ferma fissa e faccio di tutto per dimostrare che la mia idea è corretta e sono in grado a seconda della partita di capire quali sono i meriti e quali sono i demeriti dell'allenatore in questione l'altro giorno addirittura delle persone mi hanno fatto il pelo nell'uovo mi hanno dato il pelo nell'uovo nel video dicendo perché ho detto vedremo se allegri sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione e l'hanno letta come una speranza di non avere allegri l'anno prossimo è certo è ufficiale io addirittura ricordo una notte ufficiale della Juventus con scritto allenatore della prossima stagione Antonio Conte e poi non è stato così è stato Massimiliano Allegri l'unica certezza di avere Allegri sulla panchina della Juve l'anno prossimo sarà vedere Allegri sulla panchina della Juve l'anno prossimo fine cioè non è che ho detto chissà che cosa ho lasciato aperto delle possibilità perché le possibilità secondo me ci sono che alla fine dell'anno si facciano delle riflessioni poi per quanto mi riguarda è molto più probabile che Allegri rimanga sulla panchina della Juve qualsiasi cosa possa accadere però ragazzi noi ci stiamo dimenticando che dopo quattro giornate di campionato eravamo a due punti in classifica e penultimi due punti in classifica e penultimi ora siamo padroni del nostro destino traduco perché anche qua qualcuno mi ha detto ma cosa significa padroni del nostro destino perché poi allora speri del pareggio tra Milano e Napoli l'obiettivo della Juventus in questo momento è consolidare la posizione in Champions League e per questo siamo padroni del nostro destino noi se vogliamo arrivare in Champions League ci arriviamo se ne vinciamo tutte da qui alla fine siamo in Champions League perché siamo padroni del nostro destino per quell'obiettivo lì se vogliamo avvicinarci le altre invece Milan Inter e Napoli dobbiamo sperare per forza che qualcuno lasci dei punti per strada perché qualcuno è qua che dice sì però io adesso in questa posizione solo perché le altre si sono suicidate ma non è una cosa logica e normale nel momento in cui eravamo penultimi con due punti dopo quattro giornate non avete pensato che l'unico modo per arrivare là era una serie di vittorie contemporaneamente a una serie di cadute di quegli altri perché non c'è altro modo è un discorso matematico come allo stesso tempo non è normale pensare che se le altre scappavano era perché la Juventus si era suicidata nelle prime quattro giornate vale solo al contrario vale solo viceversa vale solo per portare avanti ancora una volta un'opinione facendola passare come verità assoluta sono due cose differenti sono due cose diverse e quindi la partita di ieri dove anche il live su Twitch primo tempo tutti contenti nel secondo tempo si iniziava a leggere non ci sono idee di gioco il primo tempo è stato giocato bene dalla Juventus doveva chiuderla doveva andare sul 2-0 doveva fare di più certo perché tanti fanno anche passare il messaggio che Allegri sia contento di fare queste partite Allegri non è contento di vincere 1-0 non è contento Allegri di vincere 1-0 e te lo dice in conferenza stampa te lo dice nel post partita dobbiamo migliorare dobbiamo chiudere le partite pensate che Allegri goda che sia masochista e che quindi sia contento di vincerle 1-0 se lo pensate ragazzi che vi devo dire cioè finisce lì perché avete un'opinione che cozza nei confronti di quello che dice l'allenatore che spiega l'allenatore poi che Allegri sia bugiardo sono il primo a dirvelo però un allenatore di calcio le vuole queste cose vuole che si chiuda la partita non vuole rischiare di perdere nei minuti finali in questo momento siamo messi così ed è vero siamo messi così ma non sia la squadra come dicevo prima che deve vincere la Champions come in questo momento non sia nemmeno la squadra che deve vincere lo squadetto poi se la tua opinione era quella che si doveva vincere lo squadetto se la tua opinione è quella che si doveva vincere la Champions allora ci sta la critica per l'amor del signore però criticare in questo momento un allenatore che le sta vincendo davvero tutte tutte o comunque ci sono stati dei pareggi che hanno dato fastidio come quelli con l'Atalanta quello con il Torino quello con il Villareal ma non sono nemmeno sconfitte ma ragazzi ma non so se state vedendo l'alta linea di risultati che stanno facendo tutte le squadre in questo momento qui perché in questo momento qui è più difficile questo momento qui è complicato e fare punti e tanti punti in questo momento qui è la cosa più complicata del mondo oggi siamo a 4 punti dal Napoli che sta overperformando sta facendo una stagione da sogno da sogno e sono tutti contenti che credono nello scudetto noi siamo a 4 punti con la stagione peggiore degli ultimi 11 anni della Juventus ma vorrà dire qualcosa questa cosa oppure no significa che comunque i risultati anche se arrivano in una maniera diversa da quelli che sogniamo valgono contano qualcosa contano perché io sono più contento oggi di vincere queste partite e di soffrire queste partite piuttosto che a inizio anno di perderle o di pareggiarle quelle partite e essere a 2 punti dopo 4 partite siete più contenti oggi o inizio anno a me sembra una banalità mi sembra davvero una banalità però se la volontà di tanti tifosi piuttosto che essere contenti della situazione attuale della Juventus è quella di sperare che la Juve perda perché così cambia l'allenatore ragazzi finitela voi la frase non lo so finitela voi la frase io penso di averlo già detto in ogni modo possibile e immaginabile mi è piaciuta la Juve di ieri primo tempo sì secondo tempo no è stata una richiesta di Allegri quella di abbassarsi essere passivi di tornare in non lo so secondo me no secondo me quella di Firenze era stata una richiesta di Allegri era stata organizzata preparata per andare in quel modo lì quella di ieri no secondo me è un po' sfuggita anche di mano la partita a Massimiliano Allegri che non voleva quelle cose e che voleva chiuderla e che voleva stare tranquillo anche lui perché ieri non so se avete sentito urlato come un dannato come un deficiente c'è anche un video che gira in cui lui si arrabbia perché si torna indietro in una particolare azione e dice basta la palla sempre indietro e quindi questa è effettivamente una cosa su cui deve lavorare se lui non piace quella roba lì allora devi insistere tra allenamento e partita per fare in modo che quella cosa non avvenga che non accada queste sono cose che si possono dire per criticare l'allenatore facendolo in buona fede facendolo in buona fede perché ormai è un discorso che se A nei confronti non si deve dire se è B gli lecchi il culo ragazzi allora così è molto complicato io in un momento del genere in cui si fa fatica a tutti a fare punti e in cui ci portiamo nella zona champions facendo una partita in cui il primo tempo mi è piaciuto il secondo tempo mi ha rischiato tantissimo io lo seda all'allenatore glielo do perché qualcuno poi mi dice come fai a dargli 6 come se ne avessi dato 10 ma sai ragazzi è la sufficienza e la Juventus che vince in casa con lo spezia mi sembra davvero il minimo e quindi la sufficienza poi ci sono cose che mi sono piaciute che non mi sono piaciute anche io avrei messo dentro i giovani mi sarebbe piaciuto vedere un quarto d'ora di un ragazzo dell'under che sale e inizia ad entrare nel meccanismo se l'allenatore non lo ritiene pronto non lo ritiene pronto se l'allenatore che lo vede allenarsi tutti i giorni anche Sole è stato riconvocato dall'Argentina e la gente si incazza perché viene convocato dall'Argentina ma la Juve non gioca ma non ha mai giocato nemmeno nell'Argentina è stato convocato 3-4 volte l'Argentina ha fatto 0 minuti però Scaloni è bravo perché lo convoca Allegri no perché non lo mette ma anche Allegri lo convoca essere convocato con l'Argentina non giocare essere convocato con la Juve non giocare non sarà mica la stessa cosa però Scaloni intelligente perché lo convoca queste sono vere e proprie volontà di mettere in croce l'allenatore e poi mi dicono a me che guardo il dito e non la luna ma la luna è la Juventus che in questo momento è al quarto posto dopo una roba che sembrava impossibile ragazzi ma io me le ricordo io quando dicevo che era utopia ma sentivo la voce la gente mi diceva di star zitto che la voce non esisteva che la Juventus era destinata a fallire che sarebbe arrivata settima e sono le stesse persone che oggi mi dicono che in realtà dovevano vincere lo Scudetto perché a seconda di quello che accade allora si costruisce di conseguenza il fatto di arrivare a confermare la propria idea ma questo non è un modo di ragionare questo è un modo di voler dimostrare che si ha sempre ragione e mai torto ma io sono il primo contento a mettermi qui e a dire mi ero sbagliato pensavo di non arrivare in Champions invece eccoci qui a giocare le nostre carte non credo nello Scudetto se vinceremo lo Scudetto sarò il primo a essere felice a dire mi ero sbagliato abbiamo vinto lo Scudetto io non credo a una vittoria alla Champions se vinceremo la Champions sarò il primo a dire mi ero sbagliato non pensavo di vincere la Champions l'abbiamo vinta e mi dicono e mi dicono di guardare il televideo allora perché perché guardo solo il risultato qualcuno mi dice che non ha emozioni a vedere questa ma a me l'ansia che prende il cuore l'anima tutta la settimana perché so che gioca la Juve una partita delicata è l'adrenalina che mi dà anche solo cercare di portarlo a casa sto risultato questi tre punti nel secondo tempo ieri sono stato l'hai visto di tutto il tempo così avevo una roba dentro che ero preoccupatissimo ma queste sono emozioni ma queste sono emozioni se non le riuscite a provare mi dispiace per voi io ho provato emozioni per la Juventus di Conte per l'Iventus di Allegri per l'Iventus di Sarri per l'Iventus di Pirlo e le sto riprovando per l'Iventus di Allegri sono emozioni non te le dà il televideo te le dà vedere la partita la prestazione che poi cerca di raggiungere il risultato attraverso la prestazione che ogni singolo allenatore con ogni singola idea e ogni singola mentalità cerca di dare alla squadra io me la sono goduta me le sono godute tutte le Juventus con tutti gli allenatori che ci sono stati se gli altri non ci riescono a me dispiace ma è un problema loro non è un problema mio come è un problema loro se l'allenatore della Juventus arriva al risultato in un modo che loro non piacere è un problema loro è un problema loro la Juventus ad Allegri chiede di arrivare al risultato non gli chiede di arrivare al risultato in modo che tutti i tifosi di Juventus siano contenti perché spoiler non c'è non c'è il modo in cui tutti siano contenti come c'è chi ama Di Bala e c'è chi odia Di Bala come c'è chi ama Allegri e odia Allegri neanche Gesù è riuscito a farsi piacere da tutti e non ci riuscirò certo io perché lo so che anche questo video sarà un pugno nella pancia di chi invece vuole uno che si mette avanti la telecamera a dire Allegri è un coglione se ne deve andare dalla Juventus perché rovino la Juventus non ve lo dirò non vi dirò che Allegri è il male della Juventus perché non lo penso perché non lo penso e nessuno mi paga per dirlo e allora se devo essere considerato servo schiavo e tutte quelle banfrine lì perché dico che sono felice e soddisfatto che la Juventus sia rientrata al quarto posto va bene se devo essere etichettato Allegriano perché sostengo l'allenatore della Juventus e sono contento che l'allenatore della Juventus stia cercando di riportare la Juventus dove le compete va bene quello che volete davvero quello che volete tanto alla fine c'è una sola cosa che conta il fatto che la Juventus arrivi nelle prime quattro in questo momento se poi cambieranno i target sarò felice di essermi sbagliato perché non sono nessuno non voglio assolutamente dimostrarvi e vendervi nulla voglio soltanto emozionarmi e godermi la Juventus qualsiasi tipo di Juventus nel modo che piace a me guardandomi le partite e vivendoli insieme a voi commentandoli insieme a voi fine tutto qui niente di più niente di meno un abbraccio che è arrivato fino al venticinquesimo minuto quasi praticamente capisco che è stato un video lungo e difficile ma c'erano tante cose da dire tante cose da dire spero di di averle dette tutte ho preso un po' spunto dai tanti commenti che veramente mi sono stati qua ma veramente mi sono stati qua perché quando la Juve perde non va bene quando la Juve pareggia non va bene quando la Juve vince non va bene e nessuno eh nessuno 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 non è vero me lo rimangio questo nessuno sto dicendo nessuno vuole vedere solo queste partite in realtà ci sono anche quei fanatici che vogliono vedere queste partite ma solo perché così possono dire hai visto allora che ho ragione io e non c'hai ragione te che invece la vuoi vedere giocata bene eh ragazzi sempre vedere i bimbi delle elementari delle medie c'ho ragione io e tu non c'hai ragione è una sfida chi ha ragione io e tu non c'hai ragione